Buongiorno amici e amiche di FC Inter News, campione e campionessi d'Italia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento mattutino sul nostro canale YouTube ogni giorno, da lunedì a venerdì alle ore 12, un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter, oggi ritroviamo Mattia Todisco, ben ritrovato Mattia. Buongiorno. Allora Mattia, domani l'Inter scenderà in campo contro il Sassuolo, la possibilità magari per chi ha giocato di meno, per chi ha bisogno di dimostrare qualcosa in questo finale di stagione, l'Inter che è ovviamente ancora nel mirino lì, l'obiettivo 100 punti, superare quota 100 è ancora possibile, quindi io credo che in queste ultime quattro partite l'Inter comunque farà di tutto per arrivare a questo prestigioso record, ma ci sono tanti record da poter raggiungere in questo finale di stagione e quindi vivremo ovviamente queste quattro partite insieme, ma è chiaro che comunque il campo offre spunti. Ormai limitati rispetto a quello che è stato fin qui il nostro percorso e c'è grande fermento intorno al calcio mercato. Ieri abbiamo analizzato a fondo le parole di Zanetti su Zilze. Mattia, con te voglio parlare però, sempre parlando anche dello scudetto, di chi ha lasciato l'Inter la scorsa estate, in particolare due giocatori su tutti, per fare un po' il bilancio complessivo, perché ecco, ieri quando ho parlato di Turam, di Zilze, la possibilità magari di uno scambio tra i due, perché questo è magari lo scenario che qualcuno ha ipotizzato, ho parlato anche dell'armonia dello spogliatore nero azzurro, che secondo me non è stata la base del successo nero azzurro. Turam per me è stato veramente un nuovo chiave, in questo senso, oltre che a farci vedere bellissime cose in campo. E voglio parlare con te di due giocatori in particolare, Skriniar e Lukaku, perché poi entrambi sono stati impegnati, Lukaku in campo, Skriniar no, nelle due semifinali di Champions League e Europa League, e secondo me è anche arrivato nel momento di fare un bilancio delle loro stagioni, è chiaro che è qualcosa che ci riguarda ancora da vicino, l'ascoltatura è ancora tanta. Partiamo da Skriniar, no? Perché Skriniar, io credo che la scelta di andare a Paris Saint-Germain è stata una scelta ovviamente voluta fortemente dalla dimensore slovacco, sappiamo bene come è stata la storia di questo mancato rinnovo e dell'addio a zero all'Inter. Ti ha denuso Skriniar a Paris Saint-Germain, Mattia? Beh sì, per come si è sviluppata la cosa sì, ma ti dico anche la verità, non gli do tutte le colpe, nel senso che, semplicemente nella vicenda io non do colpe, nel senso che a mio avviso Skriniar è stato comunque messo sul mercato dalla società perché in quel momento si pensava che vendendo lui e prendendo Bremer si potesse fare addirittura un upgrade, cosa che non era così campata per aria, perché poi Bremer è un ottimo giocatore e forse era un pochettino più funzionale rispetto a quella che era l'idea, comunque con una difesa più alta, impressione che aveva Inzaghi in quel momento. Però poi quella cessione non si è concretizzata e secondo me, dico la verità, vado magari un po' in controtendenza, ma da parte di Skriniar era anche legittimo pensare comunque di accettare quella che era questa situazione, che chiaramente poi ti può creare dei problemi perché va via a parametro zero un tuo titolare che ha un valore attorno ai 50-60 milioni e non guadagni nemmeno un euro, è chiaro che ti può creare dei problemi perché se lo vendi tu hai i soldi per prendere il sostituto, se non lo vendi tu i soldi per il sostituto li devi trovare altrove, come è successo perché cedendo un'ana poi alla fine se vai a vedere, il portiere lo hai preso spendendo molto di meno e meno male poi i soldi li hai ricavati comunque da lì per prendere Pavar che poi è quello che in qualche modo ha fatto il sostituto ringraziando sempre San Matteo Darmian che nei tre mesi finali della stagione di Skriniar ha fatto da sostituto interno allo stesso Skriniar. Chiaramente, allora io ti dico la verità, io non escludo nemmeno che poi l'anno prossimo Skriniar torni a dei livelli megagalattici perché bisogna anche essere onesti poi la singola stagione può anche andarti male. Skriniar nell'anno in cui l'Inter arriva a seconda e fa la finale di Europa League, era un panchinaro praticamente e tra l'altro in quella difesa 3 giocava come terzo a destra Godin che onestamente tutto era dato a fare tranne che il terzo di destra perché non aveva il passo, non aveva nemmeno diciamo l'attitudine al cross, al gioco da laterale, tant'è che in quella stagione credo abbia fatto solo un assist per un gol di Sensi di testa all'Udinese, tu pensi anche? Sì. Come si aveva messo senza in quel periodo, segnava addirittura di testa, un grande what if della storia recente dell'Inter, però prendiamo così un'altra ramificazione per cui lasciamola stare lì, però per dirti Skriniar quell'anno va male e l'anno prima era andato benissimo. L'anno dopo essere andato male l'Inter non prende manco il sostituto praticamente di Godin, il sostituto diventa Skriniar che in quel mese di quella stranissima sessione di mercato che avviene tra una stagione e l'altra, perché la stagione finisce ad agosto e ricomincia poco dopo praticamente, rischia di andare al Tottenham, non ci va, rimane e diventa il titolare e lo fa benissimo e vince il campionato. Quindi insomma ci può stare, ti faccio un altro esempio, De Vrij l'anno scorso onestamente ha fatto una brutta stagione. Sì, ci sta, ci sta. Ha fatto un'ottima stagione. Quindi ci sta. Il primo anno, è chiaro che fa comunque sensazione per quello che gli danno anche di ingaggio che si spacca il povero Lucas Hernandez e mettono Lucas Beraldo, perché comunque metti un ventenne che poi, voglio dire, si è meritato del palcoscenico, per carità, però comunque metti un ventenne al posto di uno che prende un ingaggio clamoroso e che è stato preso come comunque il giocatore che ti doveva in qualche modo cambiare la forza della difesa così onestate. Esatto, ci sono stati comunque anche dei problemi fisici, va detto, anche nella passata stagione con l'Inter. Ma devo anche dirti che prima dei problemi fisici non aveva brillato uguale. Esatto, sì, sì, sono assolutamente da qui. Due o tre fesserie. Lo diciamo per cronaca. Però ecco, questo è un aggiornamento qui che sto facendo su Screener, perché io mi ricordo l'estate in cui l'Inter pensa di vedere Screener e comprare Bremer. Io credo che l'intifoso interista ha capito, soprattutto nell'ultima sessione di mercato, questa stagione qui è la dimostrazione, che se si vende e si rinventa, questo è il principale nodo poi rispetto a qualche estate fa, bisogna fidarsi della dirigenza, perché ecco, il caso Screener-Pavar, io credo che sia magari l'emblema, ma poteva esserci anche Bremer a posto di Screener. Oggi avremmo avuto un Bremer lì, centrale, tutto sommato, annetto politico. Ho detto anche un'altra, Bremer adesso quest'anno l'ha fatto bene, ma il primo anno a Juve... Eh, male, male, sì, sì. Però ovviamente anche il contesto, cioè bisogna inquadrare. Spesso quello che l'hanno speso... Assolutamente, sì. Però io credo che Bremer all'Inter, per me, avrebbe... si sarebbe inserito decisamente in maniera... Cioè, per me... Era perfetto, guardando... Per esempio, cito il caso Brozovic-Ciala, ma anche un'Ana Sommer, cioè nel senso l'Inter non è risentito, anzi è stata la miglior stagione delle tre di Simoninzaghi, e arriviamo lì davanti, Mattia, perché io ti devo chiedere un parere su Lukaku, che ieri, altra semifinale, altra partita europea... Guarda, te l'ho detto poco con tutta la tranquillità del mondo, io ieri avrei fatto giocare a Zmoon. Questo la dice lunga, eh? Ma non per... allora, Lukaku peraltro in Europa League ha anche una... una storia molto, molto buona, cioè nel senso anche l'anno che fa con l'Inter in Europa League è stato devastante, e anche in quella finale comunque lui segna il calcio di rigore che porta avanti l'Inter. Poi la deviazione del 3-2 è un attimo di sfortuna, il gol che sbaglia del possibile 3-2 non è sfortuna, ma è proprio che... si è un po' preso paura, c'è un po' la classica paura. Cioè, l'occasione è talmente facile che in qualche modo la sbaglia. E devo dire che però insomma, lui ha una storia nelle partite importanti, ragazzi, tolto il derby di Milano, che onestamente l'ha sempre visto il protagonista, però tolto quello di Lukaku ha una storia nelle partite importanti che francamente è emblematica. Io ti dico veramente, ieri fu... poi uno, magari lo dice col senno di poi, perché ho perso 2-0 in casa, questo non ha visto la paura. Oddio, ha avuto anche un'occasione che ha preso una traversa. Sì. Però onestamente ha fatto... ci ha fatto ammonire ta all'inizio. Dico, va, forse sai, se gli gioca addosso, se gli giocano in quel modo, riescono un po' magari a prendere un po' di profondità. È anche una partita ovviamente condizionata tantissimo dal fatto che in un momento di grande equilibrio con l'occasione da una parte dall'altra, Karlsdorp ne combina una grossa a una casa, va benissimo, tutto quello che vuole. Però, ragazzi, ho fatto niente. Dopo quella occasione della traversa di Lukaku e dopo il gol di Karlsdorp, le due occasioni migliori, la Roma le costruisce. In un momento di assalto, in cui saltano un po' gli schemi, tutto quello... però una Zmun e una Ebram che francamente mi ha ricordato quasi da vicino a quella di Lukaku. Cioè, oddio è peggio di quella di Lukaku, molto peggio. Anche perché fa pure una gran cosa, nel senso che sposta via di peso il giocatore e si crea uno spazio enorme per andare solo a toccarla, che se la sfiora va dentro d'inerzia e la sbaglia. Però creano le due occasioni più importanti. Quando esce lui, adesso non è che... voglio dire, sarà una casualità. Però questo signore qui, quando c'è la partita importante, non c'è mai. O il Belgio sbaglia 3-4 gol con la Croazia. Raffaele, secondo me, io non so tu che esperienze hai al calcetto del mercoledì con gli amici, ma io non ne ho di buonissime. Però forse l'avessi metterle. Ma anche due. Io forse quel giorno li faccio a doppietta. Con la Croazia quel giorno. Se mi captano due palloni così in faccia, ho doppietta. E non sono un buon giocatore, ve lo dico tranquillamente. Sono curioso di vederti in campo, Mattia. No, no, no. Assolutamente. Ma a detto di questo, possiamo dire che ad oggi, ad oggi, anche se secondo me nel calcio magari ecco non esiste una scelta sbagliata rispetto a un'altra. Nel senso sono state scelte, no, prese per alcune situazioni che si sono create. Screen ne abbiamo parlato. Lukaku, secondo me, aveva già avuto il sensore, no, di giocarsi di nuovo il posto con Turam. Lui prima donna, quindi vuole essere al centro del gioco, del progetto tecnico. Si può dire che alla fine comunque sono state due scelte che ovviamente, ecco, non hanno tolto nulla all'Inter, però hanno tolto magari, almeno fino ad ora, qualcosa alle carriere dei due giocatori. Io te lo dico, in chiave futura, secondo me, Scrinia ha comunque ancora la possibilità comunque di riprendersi, ripeto te. Lukaku, quest'estate qui che arriva, è di nuovo lì che non sa dove va, eh. Nel senso, adesso magari la Roma arriva quinta e riesce ad andare in Champions League, decide di tenerlo, non lo so. Però in questo momento lui non ha ancora certezza di dove andrà nel futuro. E se anche dovesse restare alla Roma, a mio avviso, con il rispetto che si deve, con De Rossi stanno anche giocando un buonissimo calcio, hanno fatto una media punti molto, ma molto superiore rispetto a quella con Mourinho. Però onestamente è difficile considerarlo un upgrade rispetto alla squadra che ha vinto il campionato e che in questo momento ha uno status europeo che è superiore. Quindi lì, comunque non ce lo vedo, anche se l'anno prossimo fa 20 gol, voglio dire, però per me è comunque... Ora ti faccio questa domanda, c'è qualcuno che rimpiangi? Che se ne è andato via la scorsa estate? C'è qualcuno che rimpiangi di chi è andato via? Uno solo? No, onestamente no. A me, anzi, ti dico la verità, è chiaro poi, io penso che se l'Inter fosse riuscito ad avere in attacco Lautaro Turam e Lukaku assieme, magari tecnicamente avresti avuto comunque più chance anche in Champions League, ma ripeto, poi il calcio non è matematico, non lo puoi sapere. Però è anche vero, insomma, che è un elemento così instabile, che già una volta arriva dalle vacanze, fa la foto con Simone Inzaghi e una settimana dopo chiama Ausilio e gli dice guarda che io voglio andare al Chelsea, piuttosto che fa di tutto per farsi riprendere già a dicembre, comincia a fare interviste già a dicembre per farsi riprendere a gennaio o a giugno, torna in lacrime, mi avete riaccolto, e un anno dopo va a finire così, perché? Perché hai paura che hanno preso Turam, che poi adesso l'abbiamo visto che Turam è questo qui, ma quando l'Inter ha preso Turam, onestamente di interrogativi ce n'erano mica pochi, perché tu dicevi, ma è il primo anno che viene a fare in Italia, ha giocato un anno solo la punta centrale, non ha mai giocato con questo modulo, cioè non è che di interrogativi non ce ne fossero, tu dovevi aver paura di uno che arrivava con tutti questi interrogativi? Secondo me no, anzi, anzi, ripeto, guardando la tua carriera, in quel momento tra l'altro non ti voleva nessuno, se non in Arabia dove non volevi andare, ma in quel momento l'unica cosa che devi fare era restare, Turam andava a prendere il posto di Dzeko, tu rimanevi, secondo me, in partenza, in Zaghi, considerando poi quello che ha fatto quest'anno con Frattesi, sarebbe partito con Lukaku Lautaro, tutta la vita, tutta la vita sarebbe partito con Lukaku Lautaro, e poi se Turam veniva fuori, poi magari sarebbe stato un danno per l'Inter, perché Turam non veniva fuori così, Sì, sai, Sì, per ora noi ci teniamo il presente com'è, sicuramente. Ecco, abbiamo fatto un po' una parola, perché spesso nei commenti leggo qua e là, ovviamente quando si parla anche del resto contro della stagione, spesso sono nomi che sono fuori, ecco, questa è anche una lezione per il calciomercato, l'Inter sappiamo, no, che considera, diciamo, i giocatori dell'Inter, e nessuno vuole lasciare l'Inter, quelli presenti nella russa attuale, poi è chiaro che in caso di offerte su per tutto, verrebbe preso in considerazione sia l'Aclav... Allora, l'anno scorso tu ne avevi 11 in uscita, tantissimi, tantissimi, tra questi c'erano diversi titolari, o comunque sono giocatori importanti, quest'anno ne hai 4, non ce n'è nessuno titolare, metti anche che Ausilio c'ha lì nella tasca un Bissec, per cui si è calcisticamente innamorato, come è successo l'estate scorsa, ma al posto di chi lo devi mettere, questo è il problema. Cioè, non ne hai che stanno uscendo... Di questi 4 che stanno uscendo, allora, uno già l'ha sostituito, Quadrado hai preso Buchanan apposta, quindi questo qui è già non c'è più. Uno, Sensi, è il settimo centrocampista, quindi nel gioco dei doppi ruoli, questo qui non lo devi manco sostituire. Perché l'Inter l'aveva ceduto a Gennaro? Due che vanno via, li hai presi, hai preso Gennaro. Se anche c'hai un Bissec che ti spunta fuori, ah no, se il chilo prendi, tu in questo momento, l'unico che devi sostituire effettivamente, che può essere, non tanto il Bissec della situazione, perché questo ha già esordito il nazionale maggiore, è Bento per Audero nel caso. E può ricavare... E può aver finito il mercato. Sì, sì. Capito, non è che a quest'anno, in estate, quelli che saranno protagonisti, sono gli altri che devono inseguire. Tu non li fai niente. Tu cosa devi fare? Già l'hai fatto, hai preso gli schiettarelli, tu già il mercato l'hai fatto. Ci annoieremo quest'estate. Ci annoieremo quest'estate. mi dispiace per noi, non lo so, faremo meno le tue. Non lo so. Ci godiamo relax, ci godiamo il mare, ci godiamo le vacanze, ci godiamo le tue. Non lo saranno pochi, Raffaele. Sì, sì, è stato pochi. Però questo è, ecco, qualcosa che è passato in maniera sottovalutata, come la rivoluzione dell'Inter, cioè è stata già attuata, ecco perché per me il ciclo in zaghi forse non è neppure a metà. Ne parleremo ovviamente, però ricordiamo, il calciomercato è sempre rivoluzione. Cioè, noi siamo qui oggi, il 3 maggio, a parlare di questo, poi magari tra un mese e mezzo succede praticamente di tutto, quindi saremo qui a commentare, a fare dirette ogni ora e a fare i titoloni. Noi ci auguriamo di noi, nel senso che squadra che vince non si cambia, andiamo avanti così, e abbiamo capito soprattutto che se qualcuno va via, anche l'importante, non deve essere ecco una tragedia, cioè il tifoso interista lo sappiamo bene, no? Skrini, Lukaku, Ciananol, Brozovic, Onana, praticamente no, è successo di tutto la scorsa estate, calma, fidiamoci della dirigenza e fidiamoci di mister Inzaghi, soprattutto dell'ambiente spogliatoio, perché lì c'è una sacralità che va mantenuta e lo ha detto anche Marotta, prima di vedere il tipo di giocatore che cosa può dare alla squadra, lo vediamo anche nello spessore umano e questa è una regola molto fondamentale per vincere. Mattia, io ti ringrazio, ti saluto, ci rivediamo presto. Grazie a te. Mi commento ovviamente, diteci cosa ne pensate sia di Skriniar che di Lukaku, noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto e non mi resta che lasciarvi con un calorissimo